buongiorno amici bentornati sul mio canale youtube e benvenuti a tutti i nuovi golosi che da qualche giorno hanno deciso di iscriversi al mio canale attivando la campanella e mettendomi in like ottima scelta oggi prepareremo insieme i cordon bleu di melanzane ovvero due strati di melanzana prosciutto cotto e formaggio filante una robina specialissima da leccarsi i baffi dedicata a tutti i golosi del web si preparano in pochissimo tempo sono facilissime e sono perfette se volete prepararle e tenerle in congelatore pronte da cuocere al momento per questa ricetta vi occorrono 50 g di parmigiano grattugiato 100 g di prosciutto cotto 150 g di pan grattugiato olio di oliva quanto basta due uova medie 50 g di fontina 500 g di melanzana farina e sale quanto basta lavate e asciugate la melanzana private la del picciolo e tagliate le a fette non troppo spesse diciamo indicativamente mezzo centimetro di spessore poi tagliate la fontina a fette piuttosto sottili e pulitela dalla crosta prendete una fetta di melanzana e farcitela con il prosciutto cotto e il formaggio facendo in modo che non fuoriescano dalla fetta quindi coprite con un'altra fetta di melanzana e schiacciate bene in un recipiente sbattete le uova salate il cordon bleu su entrambi i lati e in un altro recipiente mescolate con le mani il pangrattato il parmigiano in un altro contenitore mettete un po di farina quindi passate il cordon bleu di melanzana prima nella farina poi nell'uovo sbattuto e infine nel pangrattato schiacciandolo bene e facendo in modo che sia completamente ricoperto disponete tutti i compagni di cordon bleu su una teglia ricoperta di carta forno e cospargeteli con dell'olio extravergine d'oliva se ti è piaciuta questa ricetta con le melanzane probabilmente potrebbero piacerti anche i rotolini di melanzana fatti in padella con la scamorza super filante anche questa ricetta la trovi sulla pagina delgoloso.it ovviamente fammi sapere che cosa ne pensi scrivendomelo nei commenti e poi se ti va seguimi sugli altri miei canali social ciao sono giusta? si sei giusta aspetta devi mettere fuori sono dritta? no no fai io ovviamente ottima scelta ciao 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 ciao